Che cazzo di cancello? Oddio! Ah ma è un tetto! Pensavo fossero scale! Sì, sì, come dici tu Lafayette? Uh! Prendi l'accetto, tirano in fronte a qualcuno. Ah, siamo tornati da l'impiccata. Ma questa che granata sarebbe? Esplosiva? Frammentazione? Non mi fa vedere il menù. Oh! Ma un fantoccio! Ehi, che cecchino del cazzo che sei! Non sei molto bravo! E ora la pagherai! E vacca puttana! Ma porca troia! Aiutami! Ma che cazzo è? Ma non ho fatto nulla! Non ho premuto niente! Ho buttato fuori un attimo la testa mia! Tieni giù la testa! Dobbiamo togliere di mezzo il cecchino! Ok! Assolutamente! No! Allora, proviamo a spostarci... Qua... Non posso! Ma se io ti lanciassi... Aspetta, eh! Allora, sai cosa facciamo? Facciamo così, dai! No! Non si può! Ma perché? Sì, c'è proprio garante! Eh, l'ho preso, ma... Eh, l'ho preso, ma... Eh, l'ho preso, ma... Ma scusami, ma non posso... Eh, no! Sono bloccato! Sei giù! La faglietta ti coprirà! Sono bloccato! Sono bloccato! Sono bloccato! Ok, però... Ti copro io! Scusami, sono tutti i colpi qua! Ok, vai! Dai! Madonna, questa è sciotta! Ok! Ok, siamo dentro, però quest'arma non è indicata. Prova a darmi questo. Andiamo su. Oddio! Dai, 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 qua dietro. Bella lì! Ottimo! Dove sparo? Non lo so! Un rame, rame! Ciao! Mi piacciono queste fasi di sparo, solo che... Non ce n'è. Questa è una granatona! Questa c'è il fucile a cieco. Lulla! Siete divertiti con le bombe? Eh? Tardi. Che armi ho? Ma almeno c'è una bella gittata. Possiamo fermarci. Oddio, non fa io più paura che mi fanno. Boh, abbiamo seccato il mondo. Mi prendo tutto. Cazzo me ne frega. Allora, quella pistola qua però... Vediamo il revolver d'ordinanza. Non ho ancora capito se... La furia lì, quel cavolo di potere che c'ha quando spari a 8.000 persone... Hanno sbarrato la strada! Lo si può usare quando si vuole o... Attraverso l'edificio! ...o quando lo ricarichi. Dammi i proiettili. Bella, zio! Con la spallata! Scendi! Dai! Cazzo! Non mi va in... Dove sarebbe? Ma dov'è? Se lo vuoi? Bastardo! Ok. Ma questo è... Sì, ma se mi dici fumogena... No. Vai! Dai, 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 dai! Boom! No, no, no. Cambia arma adesso. Le armate... Non sono molto intuitive. Coglione! Oddio! Belle le esplosioni! Cazzo! Direi che è il momento di far così. Boh. Sì, ma ritorno in copertura. Cristo! Ma che pezzo di merda ha fatto il giro! Vado in casa. No, merda! Ma no! No! Eccolo! È qui! Cos'è? È stardo! Non ho capito questa meccanica per curarsi... Cosa ho dovuto aspettare? Puoi sparare. Ribelle neutralizzate! Mamma mia, sembra proprio... Sto ricaricato! Oddio, sull'altro Ryan. Dai! Quanto cazzo ti ci vuole a ricaricare? Madonna! Sì! Ma questo è un fucile a pompa. Siamo così. Ma finiscono o sono... Grazie. Mamma mia, ma non finiscono mai! Ribelle neutralizzate! Cosa c'è? Cuccia! Praticamente ci mandano orde e orde di... Guardali! Questi poi sono bastardi perché vengono da me. Eh, sarebbe anche ora. Non ho più colpi. Toh! Oh, ci abbiamo fatta. Cavolo, ci mandavano... 8 miliardi di nemici, eh. Guarda quanti. Il pompa è forte. L'ho provato. Ok, la pistola la cambiamo. Della mia. Bello! Mi sono divertito qua. Porca vacca! Poi ha difficile... È abbastanza tosto. L'unica cosa è che non ho capito bene la meccanica... Si arrivo della cura. Praticamente quando tu vai a terra non puoi utilizzare subito la fiaschetta Estos. Devi aspettare un attimo. Bere e poi premere X. Non so per cosa. Per rialzarsi. Comunque... Cavolo! Sono proprio divertito qui. No, qua comincerà un video sicuro. Quindi signori, io faccio una cosa. Vi saluto adesso. Vi rimando al prossimo video. Ci siamo fatti un po' di azione finalmente. Speriamo che ce ne sia ancora tanta. Io vi invito a condividere, a lasciare dei commenti. E a mettere mi piace se vi siete divertiti. Ciao e alla prossima.